Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Oggi è un giorno di Dio, ogni giorno è di Dio, ogni giorno è un dono di Dio, per cui dobbiamo rendere grazie, fin dal mattino quando ci alziamo, rendere grazie al Signore che nella sua benevolenza ci ha creati e nella sua grande benevolenza ci ha salvati e ancora sempre nella grande benevolenza ci sostieni e ci proietta verso la gloria eterna, verso quei beni che non finiscono mai. Ma già su questa terra il Signore ci accompagna e ci assiste. Oggi la Chiesa ricorda un grandissimo pontefice, infatti fu soprannominato Magno, San Leone Magno. Fu grande la sua personalità e anche il ruolo che lo svolse nei suoi tempi, ruoli molto, molto importanti in tempi difficili, come quelle delle invasioni barbariche. Lui fu eletto papo che era ancora diacono e si trovava in Francia, detta Lorgaglia, per compiere una missione di pace. Le ricevette la notizia di essere stato eletto dal popolo romano, pastore della Chiesa di Roma, quindi pastore universale. Durante il suo pontificato si ricorda, a parte tutti gli insegnamenti, la santità di vita che conduceva, ma degli interventi anche in campo politici, perché il potere imperiale stava scemando, l'imperatore non aveva neanche i mezzi per poter gestire il governo, soprattutto contro l'invasione dei barbari che si succedevano. St. Leone Magno si incontrò invece con Attila a Mantua, e li andò incontro non con le armi, ma col crocifisso, e riuscì a dissuaderlo dall'invadere il resto d'Italia e a saccheggiare Roma. Ma anni dopo ci fu un'altra invasione da parte dei vandali di Genserico, e in quell'occasione il Papa poteva ottenere soltanto che non incendiassero Roma e che risparmiassero le grandi basiliche dove la gran parte della gente di Roma si era rifugiata per difendersi dai vandali. E la storia l'ha programmato Magno, grande, che ci fa vedere, fratelli, come la granzia del Signore accompagna la sua Chiesa anche in mezzo alle grandi prove. Ma il primo elemento che Dio chiede al suo popolo è quello della conversione, del ritorno a Lui, perché il Signore vuol fare molto più di quello che noi osiamo domandare o sperare. Dio vuol fare molto di più in tutti i campi, anche nel campo della salute, anche nel campo della politica, dell'amministrazione, perché la vita è di Dio e se noi dividiamo i campi religiosi, politici, laici, nell'ambito della vita civile e religiosa, davanti a Dio, tutti dipendiamo da Lui, tutto viene da Lui e dobbiamo lasciare che la sua granzia pervada ogni aspetto della nostra vita. E nella prima lettura di oggi noi, dalle parole di San Paolo al suo discepolo Tito, sentiamo queste parole che dice insegna quello che è conforme alla sana dottrina. non insegnare cose stravaganti, quello che è conforme alla sana dottrina, cioè a tutta la dottrina cristiana, deriva da una verità fondamentale, Dio è amore, e ha tanto amato il mondo di dare il suo figlio unigenito, e nel Gesù Cristo, figlio di Dio, Dio ha rivelato a se stesso, e quindi ogni insegnamento deve partire, deve procedere dall'affermazione di questa grande verità, che Dio è padre, figlio, spirito santo, è amore infinito, è comunione di amore, ha creato l'uomo perché sia comunione di amore con Lui e tra di loro, e Dio ha mandato suo figlio, si è rivelato, si è manifestato agli uomini, quindi tutto ciò che non è conforme all'amore, alla santità di vita, va escluso dal cristiano, infatti dice, gli uomini anziani siano sobri, non debiti all'alcol, dignitosi, salgi, saldi nella fede, nella carità, e nella pazienza, anche le donne anziane abbiano un comportamento santo, non siano maldecenti, né schiave del vino, sappiano piuttosto insegnare il bene, per formare le giovani all'amore del marito e dei figli, a essere prudenti, casti, detti dalla famiglia, cioè virtuose, pieni di fede, di amore, una vita santa e luminosa, e a un certo punto l'Apostolo, o dopo tante altre esortazioni, afferma, è apparsa la grazia di Dio a portatrice di salvezza, questo brano lo leggiamo la notte di Natale, la messa della notte, è apparsa la grazia di Dio, cioè quest'amore di Dio, quest'amore che si vede soltanto esteriormente nelle opere, si è manifestato anche visibilmente nell'incarnazione del figlio di Dio, che ha assunto su di sé la nostra natura, fatta ricadere su di sé i nostri peccati, per scioglierci dal potere del male, e per manifestarci l'abbondanza della grazia di Dio a cui siamo chiamati a partecipare. Ecco allora, la grazia di Dio si è resa visibile, e San Giovanni nella sua prima lettera ribadisce queste parole, dicendo che noi l'abbiamo veduta questa grazia, l'abbiamo toccata, cioè il verbo della vita che si è fatto carne, è venuto in mezzo a noi, ecco la verità fondamentale della nostra fede, e fratelli. La vita si è resa visibile, e in Gesù Cristo la vita di Dio si è manifestata su questa terra, e Gesù ha portato su questa terra il fuoco dell'amore di Dio, la potenza dell'amore di Dio, e quest'amore che tutti noi siamo chiamati a ricevere, siamo stati battezzati, sì, ma dobbiamo vivere in quell'amore, lasciarci permeare a quest'amore, avvolgere dal fuoco dell'amore, quindi è quest'amore, che questa grazia di Dio porta salvezza a tutti gli uomini, chiunque crede, ottiene, riceve, accoglie nella sua vita il dono della salvezza, e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani, e a vivere in questo modo con sobrietà, con giustizia, con pietà, nell'attesa della beata speranza, e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio, del nostro grande Dio e Salvatore, non dice del nostro grande Dio, è del nostro Salvatore, qui San Paolo è dal titolo di Dio, ma Gesù Cristo è figlio di Dio, vero figlio di Dio, Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità, e formare per sé un popolo puro, ecco la vocazione della Chiesa, la vocazione della Chiesa, che non consiste nell'avere qualche beneficio, ma nell'essere nelle mani di Gesù Cristo, strumento di santificazione per il resto dell'umanità, quindi, per formare per sé un popolo puro, che gli appartenga, pieno di zelo, per le opere buone, per portare misericordia, per portare salvezza, la scopola della Chiesa, santificare, oltre che a lasciarsi santificare, santificare, portare questa grazia, in cui dobbiamo dimorare, ce lo ricorda anche Gesù nel Vangelo di oggi, quando dice che quando un servo ha fatto tutto il suo dovere, e arriva a casa, il padrone non si sente il dovere di farlo, di mettere a suo agio, eccetera, gli può comandare, prepara anche da mangiare, ma perché, sa, il servo di una volta era ritenuto come uno schiavo, e allora dipendeva dal padrone in tutto e per tutto, così dice Gesù, riguardo ad ogni credente, anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite siamo servi inutili, ma che vuol dire Gesù con queste parole? Che tu non devi confidare in quello che fai, ma in quello che Lui fa per te, cioè affidarti alla grazia, non al merito, ho lavorato tanto, mi spetta tanto, civilmente va benissimo, ma nell'ambito della grazia, tutto ti viene dato per puro amore, e confida allora in quell'amore, confida in quello che ti è stato concesso, ma per grazia, quindi siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare, ma confidiamo non nella ricompensa meritata, ma nell'amore che Dio ci dà, che è molto più grande, Dio ogni merito, grande Signore il mistero del tuo amore, grande la vocazione che hai dato alla tua Chiesa, grande la chiamata Signore, ad essere nelle tue mani strumento di benedizione, strumento di salvezza, un giorno chiamasti Abramo, dicendogli farò di te una grande benedizione, oggi queste parole tu le rivolgi a ciascuno di noi, faccio di te una grande benedizione, specialmente in questi tempi difficili, tu e che ogni credente sia nelle tue mani una grande benedizione, come l'è stata la tua Santa Madre, Signore Gesù, che nelle mani del Padre è stata una grande benedizione, ha accolto te che sei la benedizione di Dio e l'ha donata all'umanità, in questo modo lei è diventata nostra Madre, perché ha generato te, figlio di Dio, e ha generato tutti noi e la grazia, Vergine Santissima, che sei stata serva della grazia, immagine della Chiesa, oggi, porta ciascuno dei tuoi figli a vivere in questa grazia, a rendere grazia a Dio in ogni cosa, e ad accoglierla con amore e gioia, per spandere questa grazia a tutti i fratelli, perché la sua grazia illumini il mondo intero, a Gesù la nova e la gloria per tutti i secoli dei secoli, Amen, e tutti siate benedetti dal Signore e la sua grazia, fratelli, si moltiplichi in voi e attraverso di voi si moltiplichi, donandola a tanti che ne sono in cerca, Amen.